Coloro che hanno perso la vita costruendo il Canada, costruendo l'Ontario e la nostra città, gli italiani che accettavano i lavori più pericolosi e che purtroppo si sono alzati la mattina, sono andati a lavorare e non sono più tornati a casa. Onoriamo le loro famiglie, i sacrifici che hanno dovuto affrontare perché hanno perso la figura più importante della loro famiglia, chi il marito, chi il padre, chi un fratello, chi un ossio, tutte quelle famiglie che hanno perso qualcuno mentre erano impegnati solo a lavorare e a fare una semplice giornata di lavoro.